Ciao a tutti ragazzi sono Dan e benvenuti nella sesta puntata della serie terzisti oggi siamo qui con Buon esame ciao a tutti Buon esame ciao a tutti Buon esame ciao a tutti Allora ragazzi siamo senza soldi ma oltre questo c'è Daniele che deve cominciare a trabbiare il suo campo Che è il campo numero 75 quindi via le danze Yo Durum Sì dimmi dimmi Il blu tempo Non mi sono visto ma 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 guarda Basta che fai venire le nove che poi dopo le nove va avanti a solo No perché ha preso ok google Io beh da sporti Devo fare un campo anche io perchè Devo fare un gioco oltre ogni campo Perchè non è che sta un gruppo dei gambi che da una persona sola Tutte le persone diverse Beh no un po' di più o no però Ma secondo voi io ho detto ok google No Adesso si Adesso si e infatti si è anche aperto Perchè mi si è aperto prima Infatti gli stavo dicendo delle nove Che numero devo far venire? Le nove Bom 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 Ora va avanti da solo in teoria Ok puoi far venire anche le sette Te lo dico io basta Eh Eh porquittina Bom 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 Basta basta Come a caso si fa? E col sette Simo fai il sette Fermati fermati Eh Porca puttana E' partito E tanto non è mica cresciuto tutto Oh C'era l'offerta Della colpa E' E' Te danci a funche tempitura su quel muro mi sa Io vado a vendere i suoi Venti quelli putenti Vai a vendere quello Nooo le mie pecore sono morte di fame E' morte di fame Stai a vedere Stai attento a una roba Se tiro basso ai Simo fai le morte delle pecore ma come 400 litri di lana ma non può essere dai ma poi non si vede la lana non c'è il punto di vendita della... ah no, 6.000 perché non vedete un po' a carpie e c'è pollo ma no, prima era in verde il pezzo dell'orgio, dai perché è diventato bianco e le palle perché si mi ha mandato avanti di 20 giorni ma non trovo il mio tasto, le mandavanti erano e mandorla ancora giornata preparia paul perciò mamma 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 è cresciuto qua ma non ha cresciuto quando mi ha mai venuto danno adresce quando è saluto non fa il solido io daniele che campo sta cominciando a tre trebiare che cosa c'è giù 75 c'è giù apposta quindi devo già ricominciare cosa devo fare, piccare o arare? mi sa che questo qui l'ha appena no basta che me lo dici io che devo raccogliere, la paia? no, la paia non c'è sta per a te non c'è sta da facco per a te niente poi appena finisce so capito, so capito e quant'è che ti devo per tutto, Dan? tutti i campi si tutti senza, solo erpice e semine semine non lo so se c'è qualcuno 73? no in teoria non c'è nessuno perché lo arate tutti 73 no, il 7 no il 7 l'avevi dato te, no? no 76 o si hai spinto no, il 7 non richiede aratura ne sono sicuro al massimo, vabbè adesso se poi se poi ti faccio un prezzo a parte cioè ovviamente è più vantaggioso tranquilli allora tutti sono il 60 59 85 7 e possono essere eh ho preso una multa ehm facciamo 2000 a campo a campo si 246 mila a post se ti va bene ma che problemi ci sono eh no, ma che ne poco è troppo no, dai Samu vuoi che te lo faccio subito anche a te che? il prezzo si 2000 a campo mi sono passati 246 ho guadagnato 12.000 euro in un colpo guarda come sono contento beh in un colpo non so dire vabbè eh si e prendiamo tutte le multa di sta mappa no? non ci ho presa 3 e vedi dopo come vanno giù i 2.000 euro da 23.000 euro sono arrivato a 9.000 euro ecco ecco ci sta le beco che si affoca mentre la yerbata ma niente lascia la fa' ah ragazzi ho cambiato shaders ora ne sto usando un tipo diverso eh praticamente vi faccio vedere un attimino la differenza guarda che luce spente questo così 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 è un pochino più scura sono le stesse praticamente che uso su euro track le ho messe per farming fatemi un po' sapere se vi piace la roba ovviamente ognuno può avere il suo preset giusto per ci senti cerco Sam dica trasporti ben orrienne eh no quanto vuoi se sei caro me la trasporto io con la trebia eh no sono riato io eh quanto vuoi eh da qua la farm a 2a allora mi devi fare questo qui di colza ok poi dopo ci sono gli altri due di orto che mi devi fare fino alla farm a una cacciata tu lo tro tu lo tro guarda la città tu 2005 2005 a campo? no no tutto quando insieme ah ah compreso la paglia che mi sembra la paglia e te mi devi trasportare pure la paglia come un'altra volta come un'altra volta e tu che mi paghi a me la paglia no io te la pago tu ma parca puttata ma matrioska l'altra volta come abbiamo fatto io ti davo un tolta car e tu me la vendesti eh eh facciamo ancora così come c'è un figlio di veri stucco è proprio 2500 euro una cosa a parte eh allora tu vuoi 2500 euro e poi dopo vuoi l'altra paglia allora proprio tu è la paglia più ah 12 2500 euro compreso tu ti vuoi 350 euro per la paglia eh vabbè 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 ok di ci non troppo nets Wii siamo questo ma da direi te l'ho già pregata per la tabiatura eh si c'ha io 5300 euro ah ma shift e ins mi mette anche questo no aspetta allora scusate un secondo ragazzi cambio i settings metto non se può armandare il tempo no shift e end ti copro se mandi avanti il tempo no ma indietro buonanotte dove campi tu no no ma vabbè sto farming senza aspetta che ho fatto fuori un casino ah è quello per affidire shift 3 centimetri di stupo shift e delete se mi pare un baspartucco ok campo per stanna fei perchè me la calce connessione ah non lo so io io mondo con l'ingegnere ecco io mondo con l'ingegnere ecco ma vogliamo parlare di quell'ingegnere che è andato all'eredità e c'era da fare tipo un calcolo degli anni di di un calcolo con i numeri semplici tipo 2000 meno 160 una cosa del genere che non ce l'ho saputo fare non so se avete visto quella puntata eh no ah io si un ingegnere che doveva fare una sottrazione non sapeva farlo ottimo no tutta testa aspetta eh aspetta 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 si si tranquillo guardavo se mi lascia verpicare questa parte qui che mi dice che non è mio no no scusa ma niente eh te lo faccio pagare 100 100 euro di più eeeh no 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 battene ma il parca deve venire dietro pad capire cosa si dice allora facciamo fingere niente proprio ho dato da bene alle pecore ragazzi e diciamo che il risponso è stato che mi hanno fatto un 24% di l'anno in tre giorni tipo quindi neanche tanto bene tutta roba 24% di lana saranno 2.000 euro niente hm vabbè diciamo che ce la facciamo andare bene anche perchè le pecore... ha detto adesso ragazzi mi devo mettere a fare la lana anch'io se no non ce la facciamo se mi vedete con la lana cresciuta guarda che non l'ho mai più messo la webcam per farming perchè... perchè si è un anno oramai circa ma un anno no prima la mettevi sul volante eh no è un anno oramai quasi forse è bene nooo perchè prima la usavi tipo che inquadravi mentre tu usavi la volante l'estate quando si è comprata la cloche si ma la mettevo mi ricordo sulla sera americana ti ricordi? ma perchè i campi miei sono per ultimi? ma perchè? è ancora verde prima c'è da far venire domani ma vedi cos'è qui? domani eh, non la settimana prossima guarda, fammigalà guarda fammigalà cloruro cloruro di sodio hcl no, ncl 1.9 1.6, 1.5, 1.900, 1.800, 1.700, 1.6, 1.900, 1.800, 1.700, 1.600, 1.500 500 500 alle 9 si ferma da solo ah mo basta 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 se ci vede porca puttana basta non aumenta ma cazzo fa ecco il 7 simo che si è bassa ecco il 7 ma non mi si è bassa e allora alle 9 si ferma da solo vai tranquillo che alle 9 si dovrebbe fermare da solo torna a fare gli acquari tuoi non ti guarda la madonna ah alle 6 si ferma da solo no alle 9 dicevi daniele? ma niente con paglia o senza paglia? con? io te l'avevo pagato i gambi di paglia o si? si che me l'avevi pagato dell'altra volta si di stavolta non lo so no di stavolta dico e allora ma avete dato allora 18.000 ne avevo 1.900 1.900 più 5 più 10 e sono ehm 1.109 ma cosa sto dicendo? 6.000 e 5.000 daniele siamo pagati per i gambi 1.900 più 10.000 1.900 quanto mi dovevi dare tu? io 6.000 daniele pure 6.000 quindi 6 o 5 6 io te l'avevo pagato 6.000 per i gambi per 6.000 a ma non era 5.000 daniele che gli avevo detto no hai dato 2.000 a campo ah a posto 6 6 per 2 12 12 13.900 13 e poi quanto mi dovevi dare della paglia? 3.500 4.500 4.500 3 3 quanto ho detto adesso? 13.900 si 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 13.900 più 4 4 più 3 7 9 5 si più o meno si sono giusto si ma me li hai gelati allora tamburini tu puoi raccogliare la paglia va bene poi dico tanto l'ingegnere poi mi sono incasinato a farli il 73 te chiede? il 73 si allora puoi raccogliare la paglia su il 73 poi qualche venne dai non fa le legne e poi le porta a venne beh io le legne le ho fatte da settimana anche che stavo fare le legne daniele domani le deve mettere via beh però è tosto è legno si ce ne ho la navaranga dai e io e dai mi sta impitaccato le chiappe ma ma non vedi che che distanza che ti avevo dato? si ma non si sta mai dietro una treppia quando mai ma la puttana ti s'ha rotato 50 metri cosa cos'è che ha rotato 50 metri cosa 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 che ha fatto? vedi stavo così no? stavo così BAM io ho bisogno dei miei spazi va bene va bene fai bene hai bisogno di restare solo per un po' di periodi chi è che ha visto ieri sera beta periodi? la com'è? è uno sceriffo mezzo extra mezzo terrestre ah hai visto eh un po' di bizzard? no ho visto cosa lì con un amore uno sceriffo poco extra e molto terrestre si ma vieni di gol la sarò lì io mi guardo la pezzacolo stasera mamma mia staco staco che te sei dormito tutta la mattina oh madame fai un boccotanto eh meglio cusci la scorsa volta hai fatto 6.000 litri in tutto vabbè c'era il campo da c'era il campo da arare in più non ero neanche fertilizzato è giusto così beh adè sono già 8.000 litri e ne ho fatto mettere meno tu mi stupco mi pare un po' meglio così beh il trasporto al campo se di tutti i campi due anni facciamo eh decidio te poi ti dico se mai se non va bene o va bene passiva qua 2.000? 3 3 3.000? è troppi per tutti quanti cambi insieme dico per tutti quanti? chiede a 1.000 euro a campo ma è tutti uguali manco di scaricarlo carlo facciamo 2.000 dai ah tutti noi sta per andare ecco è tutti uguali? è tutti uguali tranne uno allora vediamo 2.000? 2.000? 2.000? 2.000? 2.000? 2.000? 2.000? 2.000? 3.000? 3.000? 2.000? 3.000? 4.000? 4.000 in bl잖아 3.000? 3.000? copy 4.000? 3.000? 3.000? viene fuori è da un bel tempo perchè è stato fatto due giri attorno accati per baffare noi porti a me lo sconti ma lo sconorato ma non è poco va bene dai ragazzi io vi ringrazio tantissimo per la visione fatemi sapere se vi piacciono questi peccati e sceglier se preferite la terra come la retrosa 3 milioni o così da den primo come semmo samuel ah ho capito simone è tutto ma che ho capito simone vabbè ciao a tutti ciao a tutti